Giorni importanti per uno dei lavori più complessi di Pesaro, quello del cavalca ferrovia, un lavoro cominciato nel 2019 e che in questi giorni ha una svolta per quello che riguarda lo step ultimo con l'assegnazione della ditta che si occuperà del prossimo stralcio di lavori. Sì, un'arteria strategica per la città, importantissima e che ci vedrà quindi impegnati per tutto il 2023 in un intervento complicato, complesso e delicato, importante. Come dicevo, sono 3 milioni di finanziamenti ottenuti da un bando, il bando ministeriale del Ministero dell'Interno, poi transitate nelle risorse PNRR, che ci consentiranno quindi di andare a sostituire i cordoli ammalorati, andare a sostituire le barriere laterali, prevedere una nuova illuminazione, un'illuminazione che riprenderà anche quella storica, quindi con la realizzazione di una strip led e di un'illuminazione invece per la messa in sicurezza potenziata della strada e come dicevo un intervento che quindi da oggi, da ieri in realtà ci ha consentito di individuare la ditta con cui avvieremo il cantiere. Hanno presentato, c'è stata una manifestazione di interesse di 183 ditte, da queste 183 ditte sono state sorteggiate 10, tra queste 10 ditte 4 erano della provincia di Peselorbino e sono state invitate a presentare l'offerta e da ieri la ditta Brandi Costruzioni e la ditta con cui andremo in questa fase appunto a definire il cronoprogramma e gli interventi. L'ha già giudicato un lavoro complesso, in prospettiva si prevedono anche restrizioni, limitazioni della circolazione? Sì, un lavoro complesso perché durante alcune fasi della lavorazione, in particolare quelle che insistono sopra gli attuali binari, dovremo andare a concordare insieme a RFI le varie lavorazioni che avverranno durante le ore notturne, probabilmente avverranno anche fermando la circolazione dei treni e quindi andremo in sinergia, così come è avvenuta la fase di progettazione esecutiva, andremo a condividerle con loro, mentre per la circolazione in questo momento non sono previste delle restrizioni o dei cambiamenti che limitano o che modificano la viabilità ordinare della città.